Con il 60,65% dei consensi Luciano Meoni stravince a Cortona in questo turno di ballottaggio e dunque si conferma primo cittadino. Sì, molto importante che ci accolla una responsabilità altrettanto importante ma noi punteremo a fare il nostro impegno e quindi va bene così. Siamo nell'area di centro-destra e vogliamo essere coloro che daranno un contributo per sostenere ancora il centro-destra perché i partiti sono fondamentali per la democrazia. Poi ci sono gli uomini che conducono i partiti che a volte fanno degli errori come è successo a Cortona. Meoni, candidato civico, non era appoggiato al primo turno dalle forze di centro-destra. Andrea Vignini invece era appoggiato dalle forze di centro-sinistra e al secondo turno si è fermato al 39,35%. Davanti a noi cinque anni di un'opposizione dura e senza sconti ma anche disponibile a convergere con le proposte della maggioranza qualora le giudicassimo favorevoli per la popolazione cortonese. Per quanto riguarda me invece il mio ruolo sarà quello di mettere la mia esperienza a disposizione di una nuova generazione di politici e amministratori di sinistra che possano fare meglio di quanto ho saputo fare io questa volta e magari contendere la vittoria di questo comune appunto fra cinque anni.